Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. Il traffico si mantiene regolare in tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Infipili per lavori di messa in sicurezza del viadotto del Turbone, possibili disagi da Montelupo Fiorentino e Ginesta Fiorentina in entrambe le direzioni. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Siena dal chilometro 51 al chilometro 52, chiusa la carreggiata est con doppio senso di marcia nella carreggiata ovest e scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1-Firenze in pruneta in direzione Firenze. Nel raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno, per lavori nei pressi dello svincolo di Petraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, per un inconveniente tecnico in corso di viaggio, il treno regionale 6857 Firenze-Santa Maria Novella-Borgo San Lorenzo viaggia con 43 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!